Musica Ci siamo parcheggiati per la notte qui in questo piccolo villaggio è una chicca, non è segnalato neanche da Par4Night vi lascio le coordinate come sempre in descrizione è un posto meraviglioso adagiato sulle colline di questa che viene chiamata la Toscana francese siamo nella patria di D'Artagnan quindi questa è una regione che assolutamente merita di essere visitata perché ci sono moltissimi villaggi, paesini caratteristici da non perdere Musica Che dire ragazzi, una delle soste più belle che abbiamo trovato quest'anno questo posto è meraviglioso, siamo in terra di Guascogna siamo a 100 km da Tolosa e siamo in quella che viene definita la Toscana di Francia e questo è un posto meraviglioso Musica Ecco, questo è il senso della nostra vita cioè vivere in assoluta libertà, potersi spostare a nostro piacimento trovare sempre posti nuovi dove stare l'idea di avere una casa e vivere stabilmente in un posto per tutta la vita o per buona parte della nostra vita è una cosa che in questo momento davvero non è più neanche concepibile Musica Stiamo entrando nel cuore del villaggio oggi è domenica, non c'è nessuno per le strade è davvero un posto tranquillissimo e delizioso dove passeggiare Musica Musica Niente, la chiesa è chiusa, quindi proseguiamo la visita Musica Mi piacciono molto le case tipiche costruite in questo modo con gli intarsi in legno sono davvero molto belle Musica 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 Grazie a tutti.